ciao a tutti Ennis qui con questo nuovo video siamo su Titanfall è il primo episodio diciamo di questo gioco sul nostro canale oltre alla benchmark che ho fatto quindi iniziamo a cercare una partita all'uguramento io dico che questo gioco ce l'ho da poco non da tantissimo e speriamo che che vi piaccia ma lo so già che a me ti piace a me sinceramente piace quindi i motivi sono per i vari stili di combattimento non più il normale come un semplice code ma grazie al jetpack ci si può muovere un sacco di più e soprattutto anche il Titan che dà una qualità e combattimento diversa e per la grafica non mi dispiace affatto visto che il motore è quello che ci siamo spesso abituati a osservare in diversi giochi nel passato ok abbiamo trovato subito un camper che si sta camperandola allora io le mappe ragazzi le conosco davvero poco quindi seguiremo un po i nostri compagni perché davvero a livello tipo 5 davvero da poco e c'ho questo gioco allora qua ce ne dovrebbe essere a livello tipo 5 davvero a livello tipo 5 davvero a livello tipo 5 davvero a livello oddio Titan nemico posso anche una sfida completata praticamente non ho fatto quasi niente su questo gioco quindi è logico ecco mannaggia andiamo come titano va comunque devo dire che il shadow play è molto più leggero rispetto a rispetto a fraps perché prima ho recitato fraps e davvero laggava abbastanza ok abbiamo distrutto un titan però diciamo che la partita sta andando abbastanza bene wow livello 6 ok Alla prossima Spostiamo la scia qua Ok I scuri si sono Ecco Abbiamo finito la partita Abbiamo vinto Adesso bisogna sconfiggere Ok bisogna stare qua Ok Vuol dire che ci possiamo anche Respellere e andare verso su Ok ragazzi la partita è finita È andata abbastanza bene 6 uccisioni Un titan distrutto 16 uccisioni Una morte solo Per essere una delle prime partite Diciamo che è andata abbastanza bene Anche se sono entrato A circa un quarto di partita Spero che vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo episodio O video Vediamo un po' Cosa ci danno Ah ok Passiamo sul livello E abbiamo sbloccato anche un'arma Che bello Ok Posso Ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti da Lenis Ciao Ciao